ciao a tutti amici dello scorpione benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi chakra spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale bene mostrami scorpione tendenze energetiche generali grazie scorpione abbiamo la tua carta la carta della morte questa carta parla di fine cicli di tagli con il passato con quello che non serve più tagli con le vecchie abitudini tagli con certi tipi di situazioni e parla comunque anche di rinascita di una nuova vita di nuovi inizi andiamo a vedere gli oracoli della saggezza che cosa vi dicono ah guardate un bivio carta numero 13 e la morte che carta è la numero 13 non è un caso credo che molte persone si trovino davanti a un bivio ed è per quello che c'è la morte si tratta di chiudere con qualche tipo di situazione di relazione o di abitudine o di attitudine come dicevo prima per percorrere un nuovo tipo di strade come se qui foste davvero in una fase di scelta dovete cercare di capire da che parte andare andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire intanto vi ricordo che le letture comunque sono fatte per un collettivo potrebbe essere che non tutto risuoni con voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo per avere poi un messaggio più completo potete ascoltare ascendente e segno lunare e nella descrizione qui sotto trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi teoroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi cominciamo con un asso di bastoni un 10 di bastoni e un 9 di coppe allora qui per molte persone questa fase diciamo che è già stata superata nel senso che comunque si parte da un'azione con questo asso di bastoni qui è un asso e qui un 10 quindi qui c'è stato l'inizio di qualche tipo di ciclo e qui c'è la chiusura di qualche tipo di ciclo quindi per qualcuna per qualcuno le carte potrebbero anche essere così e si parla di energie e il tempo è fluido quindi tenete presente che magari per qualcuno deve prima succedere questo tipo di chiusura per dare il passo a questo asso di bastoni per altri invece il contrario il fatto di avere iniziato qualche cosa di aver fatto qualche cosa dà la possibilità di chiudere questo ciclo con il 10 di bastoni e si parla qui di lasciarsi indietro di tagliare con quelle che potrebbero essere i pe e le aspettative degli altri e i pesi che ci si porta dietro ma che non sono propri che non sono vostri fondamentalmente magari sono cose che vi hanno attribuito ma che non spettano a voi sia che sia una relazione che per voi vibri come come lavoro che come una questione di famiglia insomma c'è qualche cosa che voi vi state portando dietro che vi sta un po' opprimendo che vi sta togliendo le forze ok che vi sta facendo letteralmente diventare gobby e che avete bisogno di lasciare indietro continuiamo poi con un 9 di coppe e giustamente questo 9 di coppe rappresenta il vostro punto di arrivo il vostro obiettivo il fatto che voi vogliate star bene star tranquilli sereni avete voglia di essere lasciati un po in pace fondamentalmente per qualcuno mi parla proprio di ozio cioè c'è probabilmente qualcuno all'interno di voi che sente talmente tanto il peso di questo 10 di bastoni che avrebbe bisogno di prendersi un periodo dove non fare nulla ozio da un punto di vista fisico ozio dal punto di vista mentale quindi neanche pensare a certe cose che è proprio metterli in stand by spegnere un attimo i contatti per un periodo andiamo avanti vediamo che cos'altro vi danno allora abbiamo la carta dell'appeso e la carta del 3 di coppe credo che molte persone siano in questa fase di appeso proprio perché si trovano davanti ad un bivio la carta dell'appeso dà sempre la possibilità di valutare le cose da un altro punto di vista è una persona che è appesa a testa in giù vede le cose a testa in giù quindi vede le cose da un'altra prospettiva ed è un po quello che vi può aiutare a fare appunto questo momento di di appeso c'è anche della sofferenza qui c'è anche della sofferenza che bisogna lasciarsi indietro e in effetti abbiamo la carta della morte quando arriva la carta della morte è vero sono tagli che portano poi ad un nuovo inizio ma non sono mai tagli semplici sono sempre situazioni un po complesse c'è un 3 di coppe qui potrebbe far riferimento a quello che un gruppo lavorativo il gruppo familiare o un gruppo di amici diciamo che più semplicemente sento che quello che era il desiderio di lasciarsi tutto indietro qui potrebbe iniziare a essere realtà insomma andiamo avanti vediamo che cos'altro vi danno la carta degli amanti al contrario e la carta della regina di spade la carta degli amanti al contrario molte volte fa riferimento all'amor proprio o al fatto che si debba effettuare qualche tipo di scelta qualche tipo di taglio avete la morte che probabilmente si fa fatica a fare parla sempre di amor proprio comunque la carta degli amanti e quindi qui c'è da fare un qualche tipo di lavoro sull'auto stima sulla fiducia in se stessi fondamentalmente ma avete poi la regina di spade a fine lettura che parla di una grande chiarezza mentale vostra la capacità di essere in grado di tagliare quello che non serve più nel senso che magari questo potrebbe essere un processo soprattutto il momento appeso è un processo di comprensione su che cosa va tagliato che è qui con gli amanti si fa ancora un pochettino fatica forse ma alla fine si arriva a capire che cosa va tagliato se per voi la regina di spade rappresentarsi una persona potrebbe essere una persona alla quale potete rivolgervi per avere un aiuto potrebbe essere una madre un capo mi parlano di infermiera io lo dico poi voi applicatelo alla vostra realtà andiamo con l'asso di bastoni per piacere grazie abbiamo la carta dell'appeso al contrario e la carta del papa al contrario allora l'appeso ce l'avevate già qui quindi sembra che in qualche modo un inizio di sblocco ci sia già stato con questo asso di bastoni qualcuno qui ha già fatto qualche tipo di azione si è già incontrato con qualcuno è già stato fatto quello che è da parte vostra un tentativo diciamo così no anche se avendo il papa al contrario sento che è un qualche cosa che non è stato tanto riconosciuto dal mondo esterno andiamo avanti vediamo questo 10 di spade 5 di spade e il nome di bastoni si qui io credo che abbiate molti credo che qui manchi proprio quello che è la vostra capacità di discernimento nel capire quali sono effettivamente le cose che competono voi e quale effettivamente sono le cose che dovete contrastare il 5 di spade parla di confusione mentale anche no di qualche tipo di vittoria della mente cioè che non è una vittoria reale solo una vittoria fittizia e qui parliamo del 9 di bastoni con il nome di bastoni parliamo di autodifesa di difendersi di qualcuno che sta erigendo delle barriere credo che qui stiate cercando di capire come contrastare questo 10 di bastoni come contrastare questi pesi come restituire al mittente anche questi pesi no andiamo a vedere il nome di coppia 4 di spade e la carta degli amanti si avete e anche gli amanti sono già usciti qui molte persone hanno voglia come vi dicevo prima di star bene di avere una relazione con gli altri ma anche con se stessi in armonia perché comunque tutto questo stress tutto questo peso del 10 di bastoni lo rivediamo qui con il 4 di spade c'è qualcuno qui che ha bisogno veramente di prendersi un periodo di ozio di ritiro spirituale di comunità non so c'è la comunità di osho per esempio dove si fanno meditazioni la comunità di findor in irlanda ci sono tante comunità che vi possono aiutare a fare questo ritiro spirituale per entrare dentro di voi la carta degli amanti parla di equilibrio di armonia qui sento che quello di cui avete bisogno avete voglia di stare tranquilli di stare in pace anche di essere amati per qualcuno per quello che fate sento che è molto forte il bisogno di riconoscimento dall'esterno andiamo avanti andiamo a vedere l'appeso per piacere grazie abbiamo un fante di bastoni un 8 di bastoni e la carta del 10 di pentacoli quindi qui fondamentalmente qualcuno è in questa zona stand by in questa zona di fermo perché state capendo che cosa importante per voi perché queste sono le aspettative degli altri ma per voi che cosa importante a livello egoistico ok con questo fante di bastoni ci dice che avete bisogno un attimino di lavorare sul vostro amor proprio su quello che è quello di cui avete bisogno voi per raggiungere questo 10 di pentacoli per raggiungere questo appagamento qui quello che manca ragazzi è la comunicazione dovete implementare la vostra capacità comunicativa ok io mi parla di coraggio e tenendo presente il discorso della bassa autostima che abbiamo fatto prima sento che qui c'è qualcuno che non ha il coraggio di esprimere se stesso o se stessa come se avesse paura in qualche modo di deludere l'altra persona andiamo avanti vediamo tra di coppe abbiamo un 6 di pentacoli al contrario un 2 di pentacoli al contrario un asso di pentacoli un 6 di coppe e un asso di bastoni che era già qui allora queste prime due carte sono due carte che parlano fondamentalmente di disequilibrio e potrebbe essere il disequilibrio all'interno di questo gruppo di amici collaboratori colleghi ma tutto sommato vi dirò che queste altre tre carte qui sopra promettono bene perché si parla di quello che è un inizio di tipo concreto un dono una nuova via la scoperta di un nuovo passaggio di un nuovo modo inerente quello che è un sogno che avevate nel passato perché se di coppe parla proprio del sogno si fa un'azione concreta quindi avete due assi due carte di inizio una carta di inizio ce l'avevate qui fine e nuovi inizi fine nuovi inizi fine nuovi inizi quindi ragazzi qui cambia qualche tipo di attitudine cambia qualche tipo di concretezza io credo che per molte persone qui il problema nello sviluppare questo tipo di indipendenza sia finanziario perché abbiamo un sacco di carte di pentacoli per qualcuno è proprio una questione di come muoversi andiamo a vedere cosa vogliono dire questi amanti al contrario per piacere grazie abbiamo un 7 di bastoni un di un altro 10 10 di spade che l'arcano minore della morte è un 5 di coppe io credo che qui qualcuno non stia agendo per se stesso lo rivedevamo un pochettino anche qui con il fante di bastoni qui quello che vogliono dire le carte ragazzi e che dovete seguire quello che il vostro amor proprio quello che fa star bene a voi se non volete pentirvi se non volete comunque tradire perché comunque la carta degli amanti al contrario parla di disequilibrio che vedevamo anche qui o di poco amor proprio ed è un po lo rivede in queste due carte il fatto che ci sia questa sofferenza questo pentimento questa sorta di tristezza e anche il fatto che vi stiate difendendo verso qualcun altro se voi dovesse prendere delle scelte particolari che non sono in linea con quello che la società riconosce voi non vi preoccupate fate le scelte che ritenete giuste per voi adesso è più in là nella vostra vita perché io penso che alla fine dei nostri giorni le uniche persone cui dobbiamo rendere conto siamo noi stessi e non fare quello che noi sentiamo di voler o dover fare può creare il pentimento di dire se l'avessi fatto se avessi provato provate almeno poi uno può dire ci ho provato e non è andata però diversamente c'è una frase che dice è meglio avere rimpianti che rimorsi o è meglio avere rimorsi che rimpianti una cosa del genere però fondamentalmente un po quello il senso no cercate la vostra verità ragazzi cercate quello che fa star bene a voi poi in questo particolare periodo storico ci sono tantissime persone che sono in una fase di cambio drastico della propria vita e lo vedo anche un pochino qui con la morte con questo bivio perché c'è quello che chiamano il passaggio alla quinta dimensione no quindi molte persone hanno questa tendenza a non sentirsi più bene dove sono nella realtà che stanno vivendo che sia lavorativa che sia familiare che sia di coppia la realtà che voi avete in questo momento può essere che non sia più quella adatta a voi per far crescere l'anima per far crescere la vostra anima in questo particolare periodo storico ci sono tante persone che stanno lasciando il lavoro che fino adesso è stato considerato fisso per dedicarsi a qualche cosa che magari non è così fisso e stabile e magari non è neanche così tanto remunerativo ma da un altro punto di vista vi ripaga da un punto di vista delle soddisfazioni personali e del tempo che voi diciamo così riuscite a ripadroneggiare andiamo a vedere questa regina di spade abbiamo un 9 di coppe che avevamo già qui e la luna quindi ragazzi state tranquilli arriverà la chiarezza mentale 9 di coppe parla di appagamento e la carta del sogno compiuto e anche la luna e la carta dei sogni quindi se per caso ci fosse qualcuno qui tra di voi che avesse in testa un determinato progetto sogno e volesse andare per la sua strada ma tutto il mondo fuori dice di no voi fondamentalmente perdonatemi il francesismo ma fregatevene di quello che dicono gli altri voi rendete conto solo a voi stessi ok e ricordate sempre che se gli altri si creano delle aspettative sono problemi degli altri nessuno gli ha detto di crearsene ok vale anche per voi e non vi create aspettative perché poi non è compito degli altri soddisfare le vostre aspettative ok andiamo a vedere un'ultima carta ah no aspettate osho vediamo che cosa da dirvi osho quindi quello che si vede e quello che non si vede osho che cosa abbiamo da dire i nostri amici dello scorpione io intanto voglio ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like con i commenti con le iscrizioni quindi grazie davvero tutti quanti allora abbiamo schizofrenia e repressione è un 10 di bastoni ve lo metto qua sotto mentre la schizofrenia è un 2 di spade parla del bivio parla di un'eterna e complicata decisione a livello mentale guardate lo metterei qui perché anche il 2 di spade parla di essere davanti ad un bivio e poi appunto abbiamo questa repressione ragazzi che vi sta esaurendo fondamentalmente vi sta esaurendo proprio come energie quindi qui si tratta di capire se quello che state facendo o quello che avete sempre fatto quello che si aspettano gli altri insomma è veramente quello che vi rende felici tenete presente quello che dico sempre io che se siamo felici noi riusciamo a dare energia di qualità riusciamo riusciamo a dare amore perché noi stessi siamo pieni di questa energia perché abbiamo imparato ad amarci a darci l'amore che meritiamo bene adesso si una carta da parte delle fatine qui si tratta veramente di di fare gli egoisti è arrivato il momento di fare gli egoisti di pensare a cosa rende felice voi e non come posso fare per rendere felici gli altri ripeto se voi siete felici date energia di qualità se siete vuoti scarichi se siete così che tipo di energia potete dare agli altri a parte il voi stessi che ok però ma nel caso siate genitori capi consulenti o cose di questo genere è molto importante capire se quello che state facendo vi rende felici ok ultima carta perfetto non condizionamento eccoci qua ve l'ho appena detto non fatevi condizionare e non giudizio questo io lo sento molto riferito a voi stessi al discorso che facevo prima del non vi deve importare quello che gli altri dicono voi prendete conto semplicemente a voi stessi il non giudizio in questo caso è riferito anche a voi non giudicatevi se apparentemente quello che volete fare voi o la vostra strada è diversa dalla norma è un periodo storico in cui si sta cambiando molto velocemente la dinamica e gli schemi a livello energetico ci sono molte persone che stanno uscendo da quello che è riconosciuto dalla società il lavoro fisso la casa piuttosto che non lo so la famiglia sta uscendo da questi canoni standard per perseguire per raggiungere il proprio obiettivo di vita e non giudicatevi e non giudicate neanche gli altri se per caso è una persona vicino a voi che sta facendo questo questo tipo di cambio non giudicate perché fondamentalmente il giudizio crea dualità crea quello che è il bene il male in realtà non c'è bene male semplicemente diverso quello che può far bene per voi magari non è bene per qualcun altro e viceversa amici dei pesci scusate ne dello scorpione non so perché ho detto dei pesci può essere che qualcuno stia insomma avendo delle relazioni con dei pesci questo è quello che avevo per voi spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao